Grazie a tutti. Noi abbiamo già detto in apertura della prima parte del Tg del rinvio della partita lucchese Como che salvo controordini dovrebbe giocarsi a questo punto lunedì pomeriggio alle 17.30 sempre allo stadio Porta Elisa. Sono giocate invece le altre partite del campionato di Serie C, vi ricordiamo i risultati. Lecco-Carrarese 0-0, Grosseto-Provercelli 1-2, Juventus-B al Binolefe 1-1, Novara-Pontedera 1-2, Olbia-Livorno 1-1, Pistoiese-Piacenza 2-1, Gianna Arminio-Alessandria al posticipo di questa giornata di campionato, lucchese Como come detto rinviata lunedì, Pergolettese-Prosesto 1-0, Renate-Propatria 1-0. Lo fermo restando che ci sono diverse squadre tra le quali la lucchese con una partita in meno, questa è la classifica per le prime posizioni, balza al comando Renate con 12 punti, segue l'Equa 11, Provercelli a 10, Novara-Carrarese, Grosseto e Pontedera a 9 e poi via via tutte le altre fino alla lucchese che al momento purtroppo vediamo all'ultimo posto ma ripetiamo, i rossoneri hanno una partita in meno. Passiamo alla serie D, partita casalinga per il Ghiviborgo allo stadio delle Terme di Bagni di Lucchia, i biancorossi di Rino Lavezzini ospitavano il Sasso Marconi, vediamo com'è andata. Il Ghiviborgo cerca il primo urrà stagionale di fronte al Sasso Marconi, Interland bolognese, che almeno sulla carta non pare avversario trascendentale, tra i biancorossi, debutto del difensore Michele Messina, si gioca in una bella giornata di sole. L'avvio di gare di marca Ghiviborgo, qualche chance in avvio per i padroni di casa ma nulla di trascendentale, al 33 della Rocca ex Bologna fa le prove generali di testa su calcio d'angolo, su rovesciamento di fronte Felleka fermato con un contatto sospetto, al 39 con la Rieti calcia ma Pagnini respinge, trascorrono pochi secondi e gli Emiliani si portano in vantaggio con della Rocca, su cross dalla destra il centravanti incorre in modo prepotente di testa, doccia fredda per il Ghiviborgo che va all'intervallo sotto di una rete. Neppure il tempo di accomodarsi in panchina che il Sasso Marconi in avvio di ripresa trova al punto del raddoppio, rinvio corto della difesa locale intercettato da Monti che dal limite scaglia un tiro che si insacca alle spalle di Pagnini, 0-2 d'ora è davvero notte fonda per l'undici di Rino Lavezzini. Alla mezz'ora Felleka potrebbe riaprire tutto, l'attaccante si procura un calcio di rigore ma dal dischetto calcia clamorosamente alle stelle sopra la traversa della porta difesa da Masinara, incredibile. Muscas al 32 spreca ben appostato all'altezza del dischetto di rigore, ancora Muscas e Felleka non sfruttano in modo adeguato due situazioni favorevoli per riaprire il match. Vince 2-0 il Sasso Marconi mentre per il Ghiviborgo è stata davvero una giornata da dimenticare. E allora vediamo nel dettaglio i risultati di una giornata anche in questo caso che ha visto un paio di partite rinviate sempre a causa del Covid. Vediamo nel dettaglio Aglianese Forlì 3-0, Correggese Mezzolara rinviata, Corticella Marignanese 1-1, Fiorenzuola Bagnolese 1-0, Ghiviborgo Sasso Marconi abbiamo visto 0-2, Progresso Pro Livorno 1-2, Realforte Lentigione rinviata, Rimini Seravezza 1-1, bel pareggio degli uomini di Vangioni con gol del pareggio siglato dall'intramontabile Gigio Grassi, San Maurese Prato 0-3. Questa è la classifica, ve lo dico già in tutti i campionati ci sono delle squadre che hanno delle partite in meno. Comunque Prato 10, Aglianese 9, Realforte, Correggese, Fiorenzuola 7, poi Mezzolara, Forlì Bagnolese, Pro Livorno 6, Rimini 5, Progresso Lentigione, Seravezza e Sasso Marconi 4, Marignanese 2, Ghiviborgo e Corticella 1-1, San Maurese chiude a 0. Due partite rinviate anche nel girone A di eccellenza, sono quelle di San Marco Avenza, River Pieve, Tau Calcio, Alto Pascio, Massese. Gli altri risultati, Cascina Camaiore 1-2, Castelnuovo, Pontremolese 1-0, gol della vittoria dei gialloblu, siglato da Alfredini al 94esimo, Baldinievole Montecatini, Prato 2000 1-2, Zenit Cuoio Pelli 3-1. Classifica dopo due giornate, la vediamo, Prato 2000, Zenit Castelnuovo, Massese 3 punti, Camaiore Cascina 1, le altre ancora a 0 punti. Siamo in promozione, il girone A, Lammari, Viaccia 3-1, Larcianese, Amici miei 3-1, Marisieti, Capezzano 2-0, Montelupo, Lampo, Rinviata, Quarrata, Pieve, Fosciana 3-2, Real Ceretese, Ponte Bugianese 0-2, Villa Basilica, Marina di Massa 1-2. In questo caso ci sono quattro squadre al comando, a punteggio pieno, sono Ponte Bugianese, Quarrata, Larcianese e Lammari con 6 punti. Ed infine, per quanto riguarda i risultati del calcio dilettantistico, la prima categoria, il girone A, Academy Porcari, Torrelagese 1-2, Gorfigliano, Diavoli Neri, Sporting, Pietrasanta 2-2, Folgor, San Pietravico, Corsanico 1-1, Ponte Amoriano, Vagli 0-1, Romagnano, Forte 2015 1-4, Serricciolo, Molazzana 0-1, riposava il Don Bosco, Fossone. Al comando, Torrelagese con 6 punti, seguono Sporting, Pietrasanta e Diavoli Neri, Gorfigliano 4, Romagnano, Academy Porcari, Molazzana, Vagli e Forte 2015 3, Corsanico 2-2, Serricciolo e Folgor, Marlia 1, Ponte Amoriano e Don Bosco, Fossone, chiudono con 0 punti. Abbiamo una notizia di basket e di tennis, prima di chiudere, nel basket, una bella, bellissima prova del Gesam Lemura, non è stata sufficiente alle ragazze di Coccia e Urlaro per avere la meglio sul forte Passalacqua Ragusa nella gara giocata al Palatagliate. è finita, infatti, 73-72, 7-3, 7-2, dunque un solo punto di distacco per le siciliane, ma il basket Lemura ha giocato veramente una grande partita, è sempre stato incollato alle siciliane, ha operato anche diversi sorpassi, ma alla fine non è riuscito a spuntarla. Adesso, per il basket Lemura, domenica prossima ci sarà un altro appuntamento, sempre in casa, molto difficile, contro la Reier Venezia, ma in settimana si spera anche, finalmente, Covid, permettendo che l'altra americana, l'Inney Harper, possa arrivare a Lucca. Poi, naturalmente, dovrà fare la quarantena, quindi prima di vederla in campo con la maglia bianco-rossa, dovremo aspettare ancora un po' di tempo. Chiudiamo con il tennis, debutto tutt'altro che fortunato per Jasmine Paolini al torneo di Ostrava nella Repubblica Ceca. La 24enne tenista lucchese è stata battuta in due set, 6-4, 6-3, nel primo turno dalla temibile olandese Arancia-Russ, numero 8 del Tavellone. Dopo l'Orolanda-Ross, Jasmine voleva andare un po' più avanti in questo torneo, ma l'avversaria, va detto, era molto, molto competitiva e molto forte. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG9, vi ringrazio per averci seguito. Dopo una breve pausa, il TG prosegue con la terza ed ultima parte.